Il Milan, questo sicuramente più facile rispetto a quello straordinario segnato con il Milan, si è trovato pronto ad approfittare di questo cross al bacio di Mare Kramsic che ha portato il Napoli in vantaggio, il migliore regalo possibile di governo con i 50 milioni, il Romano Maragone. Sì, beh, questo regalo, per dire che il Romano Maragone è finito per tutti i tifosi. 1-0 per il Napoli.